Musica Su iniziativa della rete delle università italiane per la pace è stato istituito il dottorato di ricerca di interesse nazionale in Peace Studies. Le università italiane partner sono 34, tra queste c'è anche l'Università dell'Aquila nel curriculum 4 educazione alla pace e migrazioni. Il dottorato costituisce la principale e concreta risposta delle università italiane di fronte al dilagale delle guerre e rigurgiti di nazionalismo, alla crisi dello Stato di diritto e dei principi democratici, all'aumento delle disuguaglianze e della violenza di genere. Le università aderenti si propongono di sviluppare in Italia, in una vivace interazione con progetti tematici già avviati a livello internazionale in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, una formazione superiore di alto livello a carattere genuinamente interdisciplinare sulle tematiche della pace, dei diritti umani, degli studi su conflitto e pace, del disarmo e della costruzione di società inclusive e sostenibili. Ispirato ai valori universali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il dottorato si concentra sulle tematiche del conflitto e della pace, contribuendo significativamente alla costruzione di una società più giusta e pacifica attraverso la ricerca avanzata e l'applicazione pratica delle competenze da acquisire attraverso dieci curricula formativi. Tecnologia, sostenibilità e pace, identità, memori, religioni e pace, costruzione della pace, diritti umani e diritti dei popoli, educazione alla pace, alle migrazioni, architetture, paesaggi di pace e poi lo spazio, i territori, le risorse e le narrazioni nella prospettiva della pace e ancora l'economia della pace, letterature, arti, filosofie e immaginari di pace, giustizia riparativa, giustizia di transizione e trasformazione non violenta dei conflitti, infine dinamiche, processi e attori nelle relazioni internazionali.